A giovedì sport per il calcio ospiti il centrocampista della Pistoese Nicola Andreoli e l'ex arancione Francesco Valiani. Argomento della serata è il pareggio di domenica scorsa contro la capolista Gianna Erminio e le possibilità arancioni di recuperare Lombardi. Secondo me in termini di occasione abbiamo fatto anche qualcosina di meglio rispetto a loro. Un primo tempo un pochino sotto tono da parte nostra, poi secondo tempo siamo usciti e forse meritavamo anche la vittoria. Però abbiamo pareggiato, rimaniamo a meno 9 da loro, a pari punti sempre con il Forlì che si sta giocando comunque anche loro la promozione. Andiamo avanti sempre guardiando di domenica in domenica sperando di vincere e fare più punti possibili. Ho visto un match, ha detto tutto molto bene Nicola, forse è stato anche generoso con la Gianna, non un tempo intero. E' partita la Pistoiese sembra un pochino contratta, primo quarto d'ora, 20 minuti, un po' anche forse un po' scioccata anche dall'infortunio di Pertica, però poi si è rimessa a posto, un paio di occasioni importanti l'ha avuta la Gianna, però io ai punti sicuramente avrei detto Pistoiese, ma non per il cuore ma per quello che ho visto. E' stata una bella partita sicuramente, forse lo slancio l'avrebbe dato la vittoria di metà settimana prima. Un distacco insommortabile oppure quando mancano ancora 14 partite tutto è possibile? Sono tanti, però non sono insommontabili, più che altro alla luce di quello che si è visto domenica scorsa, e alla luce delle tre partite che ha fatto la Gianna Ermini. Insomma una squadra che prima con quei punti di vantaggio secondo me non deve tirare i remi in barca come hanno fatto loro all'inizio del secondo tempo. Cioè hanno festeggiato il pareggio a fine partita come fosse la vittoria del campionato. Quando siamo scesi in campo domenica abbiamo sentito un boato clamoroso, è stato bellissimo perché comunque giocare in casa nel calcio vuol dire, ti dà una grossa mano, ti spinge quando sei stanco a fare quella corsa in più, e poi sono sempre tutti positivi, sentiamo il calore ma ci riempiono di positività. Anche a fine partita ci hanno cantato per esprimerci la loro vicinanza e farci capire che loro ci credono come ci crediamo anche noi, però per noi sono importanti, sono l'infa.